Allora inizio con quello che non mi è piaciuto di questo corso che è durato troppo poco e avrei fatto un'altra sessione in più. E' stato bellissimo, grazie, l'atmosfera fantastica, conduzione superba, e sciapare il suo buon giabba, sciapare il suo buon giabba, il suo buon giabba, il suo buon giabba, il suo buon giabba.